Performance del sistema sanitario, ASP Rettusea, prima in Sicilia, a Baio del PD, un plauso ai sanitari di primo ordine. L'ASP di Siracusa è prima in Sicilia nel 2021 su tre dei quattro obiettivi del monitoraggio a Genas per conto del Ministero della Salute per la valutazione delle performance del sistema sanitario in Sicilia. E nel quarto obiettivo si pone al quarto posto con un risultato nella media regionale. Prima, tra tutte le aziende sanitarie siciliane, l'ASP di Siracusa si è classificata nell'infarto miocardico acuto trattato tempestivamente con angioplastica coronarica, nella tempestività di esecuzione di intervento chirurgico a seguito di frattura del collo del femore nell'anziano, nella degenza post-operatoria inferiore a tre giorni negli interventi di colicistectomia e la parascopica in regime ordinario. Al quarto posto, nella media regionale, si è attestata nel numero di parti con taglio cesareo. Riguardo a tali risultati, Salvo Baio, noto esponente del PD siracusano, esprime sincera manifestazione di attestazione. Il monitoraggio effettuato dalla Genas, per conto del Ministero della Salute, è certificato dell'azienda sanitaria di Siracusa su tre dei quattro obiettivi, l'aggetto dell'indagine è al primo posto in Sicilia. Ce ne rallegriamo con tutta l'equipe di emodinamica diretta dal dottor Marco Contarini con il reparto di chirurgia e di ortopedia, buono il quarto in classifica delle unità di ginecologia. Questi risultati, prosegue Baio, stanno a indicare che nelle nostre strutture sanitarie, pur non mancando episodi di assistenza inadeguata, ci sono professionalità di primo ordine. Si tratta di medici, tecnici, infermieri che fanno il loro lavoro con impegno e dedizione. La politica, chiosa l'esponente del PD, spesso preferisce intervenire sulle cose che non vanno ed è giusto farlo senza sparare nel mucchio, ma è altrettanto giusto compiacersi quando il merito e l'impegno vengono ufficialmente riconosciuti da un ente pubblico come la Genas che è al di sopra di ogni sospetto. Abbiamo criticato i vertici dell'ASP tutte le volte che abbiamo riscontrato limiti e disfunzioni. Oggi ci rallegriamo anche con loro, conclude Salvo Baio.